L'assessore ha fatto una carrellata su quelle che sono le reali problematiche della Regione Puglia in termini di sanità. Le soluzioni quali saranno? Perché i fondi PNRR sappiamo benissimo che stanno arrivando, ma le soluzioni effettive quali saranno? Sì, è quello che poco fa avevo esposto. Sono criticità dell'intero sistema nazionale, quindi non della Regione Puglia ma dell'intera nazione. E ovviamente mi riferisco in particolare alla situazione della carenza dei medici, alle grandi problemi che riguardano le liste di attesa e anche la carenza dei farmici. Le emergenze principali che le Regioni stanno affrontando insieme al Governo e occorrono anche norme straordinarie per affrontare queste criticità di natura emergenziale è sperabile che al più presto veniamo a capo di questa situazione, sia sul problema della carenza dei medici, sia sulle liste di attesa e sulla carenza dei farmici. Questo è l'obiettivo della Regione. Una vera e propria conferenza di servizi, quella che si è tenuta presso la Direzione Generale dell'ASD di Lecce, per fare un bilancio sulle problematiche del sistema sanitario con i massimi vertici. Liste d'attesa, ritardi ospedali e fondi PNRR, tanti focus analizzati. Il problema delle liste d'attesa è il problema ricorrente, forse più vicino anche alla comunità. Come poter risolvere una problematica che sembra proprio ormai un gatto che si morda la coda? Noi l'abbiamo messo come uno dei tre argomenti della conferenza di servizi proprio perché vogliamo metterci la faccia e perché questo è quello che tocca la carne viva degli operatori. Noi stiamo facendo incontri incessanti anche con le organizzazioni sindacali territoriali per ottimizzare il servizio. Ci sono margini di ottimizzazione, su questo stiamo lavorando, tanti slot vanno persi o perché l'assistito non si presenta o perché il sistema informatico non funziona al meglio, possiamo migliorare ancora.